Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Marco Panichi, responsabile marketing di Unigum. Oggi sostituisco Viki che conoscete, che è la faccia che presenta solitamente i workshop, fa parte del gruppo marketing e comunicazione insieme a Gioia e Lorenzo. Oggi siamo al sesto appuntamento per i nostri workshop ed è l'ultimo prima della pausa estiva. Oggi parliamo nuovamente, dico, di vie respiratorie, ma ne parliamo rispetto al primo appuntamento che abbiamo fatto, che era esclusivamente di normativa. Oggi ne parliamo di prodotto e ne parliamo con l'azienda DP. Ed abbiamo con noi Alessandro Tittoni, Lorenzo Cangiano e Simona Pinti, dopo li vedrete. Avremo l'intervento dell'avvocato Lorenzo Fantini, un nostro abituale collaboratore, insomma, figura professionale di spicco nell'ambito della sicurezza del lavoro. e parleremo anche con Paolo Caselli nel nostro intervento di intrattenimento, che è la novità che abbiamo introdotto quest'anno, di maschere antigas e il loro utilizzo durante la Prima Guerra Mondiale. Prima di arrivare al programma della giornata, due parole su quello che è Unigum. Già lo sapete, quindi facciamo abbastanza velocemente. Abbiamo intrapreso un viaggio al centro della sostenibilità, perché comunque la sostenibilità è argomento del momento, non ne possiamo fare a meno, e anche se per Unigum non è un argomento solo del momento. Abbiamo pannelli fotovoltaici che ci rendono energeticamente indipendenti da dieci anni, pratichiamo la raccolta differenziata in maniera sistematica da diversi anni, abbiamo una serie di attività a sostegno della sostenibilità. Negli ultimi tempi abbiamo anche intrapreso un'attività di sensibilizzazione, chiamiamola culturale, con i nostri dipendenti, i nostri collaboratori, partner e clienti. Abbiamo presentato il libro con Giuseppe Ungherese sul tema della plastica in mare, non tutto il mare è perduto. Il secondo appuntamento è stato con Fabio Ciconte, presentando il libro Chi possiede i frutti della terra, ossia trattando di frutta, verdura, i brevetti, le proprietà e quello che di fatto qualcuno sceglie per noi di mangiare. Perché comunque non riusciamo a trovare tutto quello che la natura ci può offrire. Questo provoca una riduzione della biodiversità con tutto quello che ne consegue. e quindi noi cerchiamo a modo nostro di sensibilizzare questo argomento. Abbiamo un orto, anche questo ormai è in fase produttiva di picco, perché siamo alle produzioni giornaliere. Abbiamo zucchini, pomodori, meloni, angurie, melanzane e ogni giorno facciamo una raccolta che dividiamo con i ragazzi, principalmente che coltivano l'orto, ma anche con l'azienda stessa. Si fanno dei pranzi qui conviviali. Le altre attività. La Unigum, oltre a questo, fa attività diverse, che oltre al core business della vendita di IP e delle materie plastiche, organizziamo i safety day. Di recente, un paio di settimane fa, siamo stati da un cliente a Rosignano, alla Solve, lo possiamo dire, dove abbiamo organizzato un'attività giornaliera con i dipendenti e partner sulla base del nostro gioco, che è stato il gadget di Natale. Il gioco sei sicuro, dove attraverso la modalità di gioco si cerca di apprendere la sicurezza. Sappiamo che il gioco è un'attività che non è culturale, è un'attività biologica, perché comunque non è propria dell'uomo. Gli animali giocano per apprendere poi delle attività che faranno in futuro. Sulla base di questo concetto abbiamo sviluppato interamente in Unigum un gioco, un gioco per famiglie di fatto, dove si prova a sensibilizzare sul tema della sicurezza. Introduciamo l'argomento che sarà il primo workshop dopo la pausa. Tratteremo di rischio di protezione della testa con il nostro partner CASC di Elmetti. La particolarità di questo evento è che lo faremo il giorno prima del Safety Expo di Bergamo. Il Safety Expo si tiene il 21 e il 22 settembre. Il workshop è previsto per la sera del 20 settembre nella sede di CASC, dove è previsto sicuramente uno streaming, ma anche una presenza. e quindi vi invitiamo già da ora, magari, se volete, ad organizzarvi per essere il giorno prima a Bergamo e poter partecipare al workshop con noi. Una novità proprio fresca fresca di ieri, che per voi, insomma, sarà portata dai nostri account e key account, è il nuovo catalogo. Siamo usciti finalmente con il nuovo catalogo, che è ancora la serie Easy Book, che penso tutti conosciate, perché comunque è un volume che ha diversi anni, però erano quattro anni che non era stato stampato, vuoi per scelte aziendali, vuoi per l'impossibilità di viaggiare, di muoversi e di incontrare persone. Però ecco, negli ultimi sei mesi abbiamo fatto un refresh del vecchio catalogo, inserito nuovi prodotti, nuovi fornitori, perché comunque negli anni qualcosa è uscito e qualcuno è entrato, e i nostri account ieri sono stati, insomma, ecco, sono felici di avere uno strumento per poter venire a incontrarvi e lasciarvelo. La particolarità è che si chiama Green Edition, ovviamente sempre nel tema della salvaguardia dell'ambiente che stiamo tutti cercando di, insomma, siamo tutti attivi in questa attività. Dentro ci sono delle curiosità che riguardano il gioco sei sicuro, tanto che appunto la copertina in qualche modo lo ricorda, e l'abbi cura di te, che è la nostra campagna storica che tutti o quasi tutti conoscete. Fatta questa breve introduzione di quello che è la Unigum, io lascerei la parola a Paolo Caselli. Paolo Caselli è un giornalista e esperto di storia, e oggi ci parla di animali e maschere antigas nella Prima Guerra Mondiale. Perché abbiamo scelto questo argomento? Perché DP ha una storia lunga e era un produttore a marchio, sempre marchio DP, chiedo, o marchio Pirelli, delle maschere antigas che venivano utilizzate nella Prima Guerra Mondiale. Qui per i presenti abbiamo, insomma, ecco, hanno spostato dalle tech di Roma alcuni esemplari e ci hanno portato la maschera del cavallo, con il filtro idoneo al cavallo, la maschera del cane e la maschera ovviamente per l'uomo. Dopo le possiamo vedere, chi è a casa vi mostreremo le foto e i video. Noi abbiamo visitato l'azienda Roma, l'azienda DP è in una fase di, non rinascita, ovviamente non è mai morta, però un rilancio importante. È un'azienda, insomma, siamo stati piacevolmente sorpresi, a parte dell'accoglienza, ma anche proprio della storia che rappresentano. Quindi un marchio italiano che ha radici lontane e oggi la produzione è estremamente contemporanea. L'ultima cosa, prima di lasciare la parola a Paolo, in questi interventi compare ultimamente un nuovo logo, oltre a quello di Unigum, del fornitore, in questo caso DP e di Festival delle Scoperte Partner Culturale e Storico, compare un nuovo logo che è Libraccio. Libraccio è una catena di negozi, librerie, e la responsabile del negozio di Firenze, Roberta Perugini, ci sta dando una mano nella ricerca degli argomenti, dei contatti ed è un partner prezioso per Unigum. Quindi lascio la parola a te Paolo, raccontaci un po' questa storia, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, vi premetto subito che sono ludico e dispersivo, quindi se mi dovesse perdere da qualche parte richiamatemi all'ordine. E ringrazio anch'io, Roberta Perugini di Libraccio, Marco Panichi di Unigum, col quale si è creato, non lo conoscevo, ma si è creato un feeling telefonico incredibile quando mi ha chiamato. Io sono un giornalista sportivo che però ama moltissimo la storia e la storia dell'arte, soprattutto la storia militare. e quando mi hanno proposto di presentare qualcosa inerente alle maschere antigasse non sono stato ben contento. Sono arrivato e ho visto DP e ho visto queste maschere che sono l'ultimo ritrovato. Beh, devo dire che naturalmente ci sono delle situazioni che sono cambiate notevolmente da quelle della Prima Guerra Mondiale, ma non tantissimo, perché quando nella Prima Guerra Mondiale decidono, i primi furono i tedeschi, perché loro avevano un premio Nobel che si chiamava Fritz Haber, il quale nel fronte della Somme, perché noi siamo abituati a parlare di Prima Guerra Mondiale pensando al fronte italiano, che è quello prettamente nord-est. Tutti noi conosciamo Caporetto che adesso è Cobarid, che è in Slovenia, conosciamo il Grappa, Vittorio Veneto, a scuola queste cose una volta ce le insegnavano. Però gli italiani ebbero soltanto tra virgolette 600.000 morti. L'esercito inglese, tedesco e francese si parla di milioni di morti. La nostra fu una guerra verticale, perché fu combattuta sulle cime, poi dello sfondamento di Caporetto diventò verticale, ma per poco. Sulla Somme, perché è stato in Francia, a Cambrai, sono posti culturalmente bellissimi, per chi ama la storia fondanti e fondamentali, perché nel raggio di pochi chilometri si passa da Waterloo a Cambrai, a Verdun, quindi uno storico come me ci perde la testa e ci tornerebbe di casa, poi c'è una moglie che lo riporta a casa. La guerra, come dicevo una canzone, è bella anche se fa male. Guardando questi dispositivi sono andato un po' a cercare le prime maschere anticassa. Le prime maschere anticassa sono state delle spugne, usate dai greci e dai persiani, ma non chiaramente in battaglia, perché loro avevano dei pozzi che esalavano sostanze nefitiche e in qualche modo si dovevano salvaguardare, scoprirono che la spugna poteva servire da elemento di allontanamento di queste sostanze, di salvaguardia e già i greci e i persiani avevano capito questo. Però questi sono dati veramente storici, perché la maschera antigas viene ideata in contrapposizione a quello che Haber ha in mente, perché la guerra di Stagna, sulla Somm, si parla di milioni di morti, non di centinaia di migliaia, milioni di morti di ragazzi che vengono mandati letteralmente allo sbaraglio, c'è un bellissimo libro degli anni 50 che si intitola Somari. I Somari sono i generali che comandavano dei leoni, perché immaginate voi chi è stato all'Imperial World Museum a Londra, vede un pallone da calcio, questo pallone, gli attacchi venivano iniziati, o meglio gli assalti, venivano iniziati con un fischio come d'inizio e questi ragazzi, pensate, i primi che giocavano a calcio, con questo pallone cercavano di portarle nelle trincee nemiche. Voi vi immaginate, erano facili il bersaglio di mitragliatrici, di scariche di fucileria, l'artiglieria, si calcola che nella prima guerra mondiale si siano sparati circa 180 milioni di proiettili. In determinate situazioni sul fronte della Somm c'era un cannone ogni due metri, fuoco di sbarramento di artiglieria che durava cinque ore, uno se non veniva colpito usciva grullo, non riusciva a capire dove andava, perché immaginavate voi un'altra cosa della storia che è difficile da spiegare, noi siamo abituati, prendiamo un aereo, in otto ore siamo a New York dove volete voi, grattacieli, le macchine, all'epoca non era così, non c'era gli odori, i suoni, i rumori, erano completamente diversi, immaginatevi voi un contadino della Bretagna ma anche un contadino italiano della Basilicata che si trovava proiettato in questo inferno, la prima guerra mondiale è stata un inferno perché comincia nel 1914 dopo l'attentato di Sarajevo però poi si ferma, a un certo punto si ferma, il piano Schiffen è un piano che precede quella che Hitler sarà la sua arma di battaglia, la Blitzkrieg, la guerra lampo, poi in realtà ristagna e si comincia a scavare, si comincia a scavare delle trincee in un terreno, lo dico io, lo dicevano i generali, che era già stato testato nelle esercitazioni che su quel terreno lì non si poteva combattere perché era quitrinoso, in Belgio piove e quando piove in Belgio se uno soffre di depressione o si pare o viene via, terzium non datur, si fermano e questi assalti, contrassalti per conquistare metri di terreno che non portavano a niente. Fritzhaber, premio Nobel per la chimica, ha questa idea, usiamo il diclorodietil sulfureo, detto così, sulfureo, detto io che non sono un chimico, ragione a righe, no a quadritti, me lo so letto dieci volte e sbaglio sempre. Questo gas viene utilizzato contro le linee inglesi, poi nel 16 verrà usato anche dagli austriaci sul San Martino contro gli italiani, naturalmente tutti gli vanno dietro perché se la guerra ha un pregio, ne ha un pregio solo, che si fanno tanti passi in avanti in tutto lo scivolo umano, la chimica, la medicina, parleremo degli animali, la veterinaria, gli strumenti tecnici, voi pensate, visto che stiamo parlando di gomma, siamo nella sede di Unigum, che le prime biciclette, i primi carri avevano le gomme piene per evitare le forature, se no erano in legno e la prima guerra mondiale, fra le tante cesure che crea, anche nel campo della letteratura, grandissimi letterati si cimentano nella prima guerra mondiale, noi abbiamo i nostri Ungaretti, Lussu, Hemingway, Kipling, sono degli autori importanti che si cimentano, Remarque, niente di nuovo sul fronte occidentale, sono i primi che mi vengono in mente, quindi c'è questa evoluzione in tutti i campi, la medicina può testare determinati traumi e situazioni, poi vedremo quello che succede in ambito medico, quello che sarà l'iprite, poi vi spiego perché si chiama iprite, tanto lo sapete tranquillamente, insomma questo gas mostarda, questo di cloro, di etil solfuro, viene lanciato tramite delle bombe negli schieramenti inglesi sulla Somme, perché sulla Somme e meno su altri fronti, c'è una guerra, la prima guerra mondiale si combatte su tanti fronti, si combatte anche in Mesopotamia, si combatte vicino a Troia, a Gallipoli, però non vengono usati gas, perché per usare un gas le condizioni sono due, che non ci sia un calore eccessivo, perché il calore eccessivo disperde questo gas e che ci siano dei venti particolari, il problema che poi verrà affrontato dopo, quando si passerà dalle bombe che lanciano questi gas, si passerà a delle proprie veri attacchi, vengono aperti, avete presente voi le bombole del gas, o meglio ancora, perché gli assomigliano di più, gli estintori, vengono aperti con il vento a favore e questi gas che sono urticanti, vescicanti, asfissianti, lacrimogeni, colgono alla sprovvista coloro che vengono assaliti. Vorrei far partire se possibile Marco, ho tirato tra le tante immagini, perché i libri sulla prima guerra mondiale ce ne sono tantissimi, di autori stranieri si parla poco del fronte italiano, tanto per essere chiari, però la prima immagine è quella che più di tutti mi ha colpito, perché chiaramente dopo questi assalti le persone e gli scienziati dicono che bisogna far fronte, perché il gas non era per uccidere, anche se ci saranno tantissimi morti, ci saranno milioni di asfissiati, però principalmente era per qualcosa che doveva distogliere dagli attacchi, perché il gas colpiva gli occhi, voi capite bene già la preparazione d'artiglieria mandava in manicomio questi ragazzi, perché di ragazzi stiamo parlando, voi pensate arrivano questi gas, non ci vedano, girovagavano, uscivano dalle trincette e diventavano, era un tiro al bersaglio, perché le metagliatrici trovavano queste situazioni. Si creano le maschere. La prima immagine, perché abbiamo detto ci sono dei passi avanti, però ci sono anche dei passi indietro. La prima immagine è quella che più di tutti mi ha colpito e la vedrete. Naturalmente è soprattutto sul fronte italiano, ma anche sugli altri fronti, una guerra animale. Si dirà che la prima guerra mondiale ha coinvolto nel suo genicidio, nella sua tragedia, la natura e gli animali. Si calcola che siano morti più di un milione di cavalli, più di 40.000 cani, somari, muli, piccioni, cammelli, dromedari. Quando Marco mi ha detto dimmi degli animali, gli ho detto guarda che uno pensa ai somari e ai muli, ma c'è tutta una serie, il gatto no, perché il gatto è male, intelligente, non sa domestere. Il cane aveva quattro funzioni. Io quando l'ho lessi la prima volta mi immaginavo un cane, morde, che fai cane. Allora, la prima è automatica, il cane fa compagnia, le mascotte dei reggimenti, tutt'ora che ha fatto il militare. Il cane serviva chiaramente come mascotte, poi da sempre, già in epoca medievale, il cane serviva per avvertire, aveva una funzione di sentinella, se arrivava qualche sconosciuto nelle vicinanze di un accampamento, di una trincea. Il cane avverte le persone prima dell'uomo. Poi serviva, e naturalmente se uno è grullo come me, grullo bene, siamo anche noi, fra virgolette, appassionati di storia, monomaniasci ossessivi e collezioniamo i soldatini, che però sono miniature militari, perché se no poi saranno quelli bravi, e sono state prodotte delle serie in cui si vede i cani che trasportano mitragliatrici, di piccolo taglio, chiaramente, perché nelle trincee fa spostare le mitragliatrici. Un uomo era facilmente identificabile, diventava un bersaglio chiaro, un animale veloce molto meno, portava medicinali, portava dispacci, e questa è la terza. La quarta, nelle trincee, dove la vita era non vita, ci sono i topi, ed il cane, non il cane di casa che si vede il topo e viene da voi, ma mazzalo te perché io me ne sento. Erano cani che davano la caccia ai topi. Quindi quattro funzioni di un animale come il cane. E poi c'erano i cavalli. Questo è un libro del mulino che io, naturalmente, quando vado all'ibraccio, vado nella sezione storica. Guardate questa immagine. Chi di voi ha visto qualche immagine della guerra civile inglese, quella di Cromwell, tanto per capirsi, oppure qualcosa anche di medievale, dice ma questa è un'immagine medievale, perché c'è un uomo a cavallo mascherato, il cavallo ha questa sorta di armatura, perché la maschera antigas si sviluppa dall'armatura, e vedete, immaginate voi, questi ragazzi, storditi, diciamoci la verità, rincoglioniti dai gas urticanti, vescicanti, poi da ultimo vi farò vedere un'immagine devastante, e l'attacco della cavalleria, questo sì, perché la cavalleria va all'attacco, naturalmente scompaginava le situazioni. C'era, naturalmente, vi ho detto, l'apertura, si doveva guardare il vento, si doveva guardare l'ora perché gli attacchi venivano fatti o all'alba o al tramonto, dove c'era meno caldo, se c'era nebbia e la umidità e nebbia, per quanto riguarda la pianura della Somme, le pianure francesi, ce n'è da dare e da serbare, le nuvole basse, il gas ristagna, non evapora come sul fronte mesopotamico, tanto per essere chiari, e quindi bisognava attaccare con il vento alle spalle, e attaccando si avevano queste situazioni, qui si parla di un libro sulla battaglia di Verdun, però mi è piaciuto molto far vedere come animale e uomo, da sempre sono un tutt'uno, dai tempi degli Titi, dai tempi degli Assiri, l'uomo e il cavallo, non solo per la guerra, ma è sempre stato un elemento fondante e fondamentale, perché era una forza a lavoro, era una forza a trasporto, e la prima guerra mondiale opera anche questa cesura tra il trasporto animale e il trasporto meccanico, si avrà questo spostamento, tanto per darvi delle cifre, l'esercito russo, che forse era quello che ho arretrato, tra virolette a ruola, un milione di cavalli, l'esercito tedesco, prussiano, 716.000 cavalli, l'esercito austriaco 600.000, l'esercito inglese che è il più piccolo, perché quando sbarca in Belgio è la British Expedition Force, è una spedizione in aiuto dei francesi, poi naturalmente arriveranno le forze, poi quando arrivano gli statunitensi, beh sarà dirompente per l'esercito austriaco, ma questo arriverà nel 18, rimaniamo al 1915, l'alluamento di questi cavalli, immaginate voi la spesa, perché un allevatore di cavalli, i cavalli li vende, perché se li vengono requisiti dice benissimo, io non li allevo più, perché gratis non faccio niente, tra parentesi, una delle ragioni della sconfitta di Napoleone a Waterloo, al di là dell'arrivo di Blucher, è il fatto che Napoleone non ha più soldi per comprare i cavalli, per arruolare i uomini, perché la FIT, che è il ministro delle finanze francese, che è già Filo Borbone, gli dice no, non si tira fuori più un duino, e buonanotte sonatori. Voi immaginate in una carica di cavalleria, le cariche di cavalleria ci saranno fino alla seconda guerra mondiale, l'ultima carica di cavalleria sarà italiana, non è Sbushensky, ce ne sarà una anche sul fronte jugoslavo, però voi immaginate che davanti ai carri armati, che nella prima guerra mondiale faranno la loro prima esperienza, e attenzione, gli inglesi e i francesi saranno i primi a testare i carri armati, un'idea di Winston Churchill, nel 1918 gli alleati avranno 800 carri armati, i tedeschi 10, i tedeschi arriveranno dopo, però quando il tedesco fa una cosa dopo la fa bene, i tigre prima dell'arrivo del T-34 russo sarà il miglior carro della seconda guerra mondiale. Ma dicevamo appunto di questi animali che erano forza lavoro, però gli animali dovevano essere anche sostenuti, dovevano essere alimentati, ve lo immaginate voi tutti questi cavalli il foraggio che doveva essere portato, perché da strumento di lavoro andava alimentato dal foraggio. Immaginate voi, torniamo sul fronte italiano, tutti i somari muli degli alpini perché l'artiglieria assomeggiata, perché le strade verranno fatte anche qui, parecchie strade che noi vediamo sviluppate quando andiamo in montagna sulle Dolomiti, sono tutte strade militari che poi verranno riconvertite in ambito civile, ma prima ancora erano sentieri e il sentiero, il contadino, l'allevatore che portava gli ermenti, che portava le grigi, avevano dei sentierini dove ci passava proprio il mulo. Il mulo è un inno, è stato cantato dai poeti, c'è un film bellissimo, un visio che si chiama Asini, è un film meraviglioso e chi l'ha visto capisce di che cosa parlo. C'è un motivo perché nella tradizione cristiana Gesù entra a Gerusalemme con un asino, con un mulo, perché il mulo non era un animale da guerra, cavallo sì, un re va a cavallo, infatti si dice stato equestre con fontane, per dire il top. Il mulo, c'è un monumento di un mulo sulla strada che va a Montomorello, guardato da pochi, sopra Cariggi, si gira e sulla destra c'è il viso di un mulo in bronzo, dimenticato ormai come è stata dimenticata la prima guerra mondiale. Però dicevamo appunto di questi sistemi di sicurezza che vengono per gli uomini e per i cavalli, chiaramente. Vedete, eccolo qua il nostro amico mulo e vedete, sulla sinistra è un soldato tedesco, un pioniere, perché sono i pionieri quelli che naturalmente maneggiano questi gas. Sulla destra vedete due soldati tedeschi ante 1916. Perché vi dico questo? Perché nello sviluppo, abbiamo detto delle maschere anti gas durante la guerra e poi vedremo purtroppo anche altre situazioni senza, c'è un tornare indietro, abbiamo parlato del cavaliere medievale, nel 14 e nel 15 i cappelli copricapi sono di licencio, di Pano Lench, come avete visto anche i film western, si vedono soldati a cavallo, si vedono i soldati dell'unione e quelli confederati, non hanno un elmetto. Nella guerra risorgimentale, nel 1861-1870, tra le altre cose la prima guerra mondiale sarà chiamata la terza, la quarta guerra di dipendenza, non ci sono soldati con l'elmetto. L'evoluzione delle armi, delle tattiche, delle situazioni come vediamo qui e le vedete lì, porta a sì che i soldati abbiano l'elmetto. Quindi si torna dopo gli anni del 1600, perché già dal 1700 l'elmetto non viene più usato, si torna a usare l'elmetto, la storia ha corsi ricorsi storici, passi in avanti guardando anche la tradizione. Vedete questo, non so se è un mulo, un somaro o un agro, bisognerebbe conoscere i genitori, e vedete che il soldato, nella foto alla mia destra, sì anche alla vostra destra, a sinistra ha una sorta, sembra un porta binocolo, in realtà è il porta maschere anti gas. La maschera anti gas, e vedo qui e vedo i vari strumenti, tra le altre cose sono anche affascinanti, perché è un tornare indietro ma un guardare avanti, anche guardando queste situazioni. La maschera anti gas va tenuta bene, è come un fucile, il fucile va tenuto oleato, va tenuto in ordine, non deve prendere la rugge, la maschera anti gas, tuttora voi mi insegnate, la custodia non viene data, ti diamo la custodia in omaggio, tipo punti della fine, andrò bambino, io si vinceva palloni per in mare, no, la custodia aveva ed ha la sua importanza, perché se la maschera anti gas non viene tenuta secondo le disposizioni, adesso secondo le indicazioni, può diventare inservibile e si rischia, voi me lo insegnate, la vita. Allora come adesso, un cattivo uso o ottenere in cattivo stato di conservazione gli strumenti che servono per la salvaguardia sul lavoro, chi di noi non ha fatto un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Io ne ho fatti più di mille e ci dicevano tenete gli estintori, queste situazioni nella massima sicurezza. Vi dico che le maschere anti gas della prima guerra mondiale se ne trova poche, della seconda guerra mondiale o meglio del periodo italiano del 1935-36 perché in Etiopia gli italiani non si comportarono benissimo, anzi malissimo, si vendono a 6,50 euro, c'è naturalmente la sua custodia, c'è scritto 2, 1, 3, 4, io all'inizio credevo fossero i nomi dei reggimenti, no, sono le taglie perché io mi rifaccio sempre a voi che siete professionisti in questa situazione, la maschera anti gas allora come adesso deve essere aderente perché se come si dice a Firenze sbrendola o non è ben aderente è totalmente inutile. Vedete qui ci sono anche i cani e vi ho detto l'utilizzo dei cani, i cani vi ho detto che moriranno veramente tanti, 30.000 saranno utilizzati dai tedeschi, 20.000 dagli alleati per le ragioni che vi ho detto. Ecco queste sono delle foto di un cavallo della maschera anti gas con i filtri chiaramente, l'ossigeno perché il cavallo oltre a essere un animale che serviva nelle cariche perché voi immaginate, ora c'è stato lo sviluppo anche della Costituzione umana, io ne sono una prova, o è Cernobil, ho mangiato bene ma trovare all'epoca uomini di un metro e novanta, un metro e novantacinque, era difficile, la brigata Sassari che fu mandata a morire, mi tralascio il nome del generale italiano che ha mandato a morire la brigata Sassari ad Asiago sull'altipiano perché quella fu mandata a morire, erano la brigata sarda e guardando le foto di questi ragazzi, mi commuovo parlando di loro perché sono stati portati via, immaginate voi dall'entroterra sardo, erano ragazzi di un metro e sessanta, un metro e settanta, l'alimentazione era diversa, le sviluppe erano diverse, vedere arrivare un cavallo, uno squadrone di cavalleria che vi viene addosso, era tanta roba, i quadrati inglesi a Waterloo, al di là della mancanza del fuoco d'artiglieria preparatorio, poi ne si immola, 2.000 cariche, muoiono tutti i cavalli, si mettevano a quadrato, vedersi arrivare addosso un cavallo con magari un corraziere scelto di un metro e novanta, immaginate a voi come se mi viene addosso un tir, era la stessa identica cosa, quindi il cavallo doveva essere preservato e anche lì vedete quando nei musei, se avete occasione di andare a vedere i musei della prima guerra mondiale, di solito in alta montagna, quando uno fa una passeggiata, più o meno c'entriamo tutti, vedrete che accanto alla maschera, non troverete mai una maschera antigas sciolta, la troverete sempre con la custodia, in questo caso uno zaino. Andiamo avanti, eccole qua, queste sono le maschere antigas, cambieranno poco dalla prima alla seconda guerra mondiale, perché tra la prima e la seconda guerra mondiale passeranno circa 20, anzi dal 1918 al 1935 passeranno 17 anni, quindi è un tempo relativamente breve anche se ci saranno dei sviluppi per i filtri, per la respirazione e per tutte le tematiche che veniamo a trovare. Però vedete anche dall'altra parte una maschera di gomma, proprio perché la gomma aderisce in maniera particolare, e non solo, ma all'epoca la Pirelli era l'azienda leader per le maschere antigas, non solo, ma anche per le protezioni, perché chi andava a tagliare i fili del filo spinato, che è stata la grande arma della prima guerra mondiale, al di là poi del carri armato e dell'artiglieria, ma proprio gli pensano nel filo spinato, quanti ragazzi sono rimasti veramente crocifissi nel filo spinato quando sono andati all'assalto, perché l'artiglieria doveva distruggerli, doveva, ma non sempre lo faceva, e usavano anche per arrivare e ancora evitando le problematiche relative al gas, non tutti naturalmente questi fionieri, guastatori, avevano o l'elmetto farina, che era proprio un'armatura medievale, qui erano imbottiti d'acciaio, ma quando c'erano gli attacchi con il gas andavano a tagliare i fili con, avete presente una muta da sub, uguale, di gomma, e doveva essere più aderente di quelle che adesso adoperano i sub, quindi doveva essere stagna, doveva preservare, poi naturalmente nel 1925 tutti questi attacchi con il gas furono condannati, la convenzione di Versailles parlava di arma sleale, morire infilzati da una baionetta o di gas, sì c'era la sofferenza, però ditemi voi un'arma leale, forse la sciabola di una volta, e mi viene a mente, ve l'ho detto sono dispersivo se mi fate parlare, Odisseo, Ulisse, chiama suo figlio Telemaco, ma non è un nome dato a caso, perché è l'unico figlio maschio, ed è colui che combatte da lontano, Odisseo lo chiama così, per preservarlo dalla mischia, e quindi lo fa combattere da lontano, ecco perché vi dicevo di tutte queste situazioni, di questi corpo a corpo e di questo gas, come ho detto, urticante, vescicante, lacrimogeno, asfissiante, che erano impattanti, non si usò tantissimo, però fu usato e naturalmente tutti i corpi d'armata e tutte le nazioni usarono fino al 1925. Nel 1925 il trattato di Versailles disse no, questa è un'arma, le armi chimiche non devono essere usate, tant'è che poi naturalmente ci furono l'evoluzione nella seconda guerra mondiale, parecchi stati non aderirono a questa convenzione, uno su tutti gli Stati Uniti, che non volevano entrare in guerra, Wilson non voleva entrare in guerra, non voleva mandare i suoi soldati a morire sul fronte occidentale, però poi lo fecero e gli Stati Uniti nel 1925 non aderirono come altre nazioni peraltro alla messa al bando delle armi usando questi gas. Naturalmente ci sono le evoluzioni, il secondo che vedete a destra, sì ho detto bene, è un soldato italiano, l'Elmo Adrien, che è stato mutuato dall'Elmo francese, perché gli italiani adottarono naturalmente gli elmetti degli alleati, quello a sinistra uguale, ebbene quello a destra, dite beh, è una rievocazione storica di adesso con le mascherine per il Covid, di questo stiamo parlando. Ebbene, per usare ancora più filtro con queste mascherine, veniva usata l'urina, l'urina stringente, in epoca rinascimentale medievale veniva usata per fissare i colori, e quindi era un filtro ancora maggiore, perché la disponibilità delle maschere antigas, anche se l'industria andava avanti, non era al passo con i soldati che la dovevano indossare, perché si sta parlando di milioni di soldati che andavano al fronte. E vedete, quella a sinistra addirittura sembra un fantasma, poi ognuno se la cavava come voleva, pensate che i primi attacchi con il gas, l'elemento di protezione era o mangiare la mollica di pane, o addirittura, ve l'ho propria mascherine imbevute di orina. Poi naturalmente si passerà dal momento in cui è come il doping e l'anti-doping, l'anti-doping è sempre un passo indietro rispetto al doping, il doping va avanti, l'anti-doping lo rincorre, chi sa un po' di tanti sport, soprattutto a livello singolo, sa di che cosa sto parlando. L'evoluzione militare delle armi e chimica va avanti e naturalmente di pari passo va avanti anche la protezione riguardo a queste situazioni. Ecco, questa è la Strafe Expedition tedesca e vedete siamo post-1916, abbiamo l'elmetto lo Stalem che sarà l'elmetto d'acciaio che poi verrà utilizzato anche negli anni post-Repubblica di Weimera e poi verrà utilizzato dall'esercito della Wehrmacht e dalle SS e poi verrà utilizzato in Kevlar anche da eserciti moderni, più o meno la situazione è questa. Stiamo parlando del 1916-17, sembra di vedere un film di Wells, tratto da un romanzo di Wells, sembra di vedere un qualcosa, l'invasione degli alieni, manca solo che Orson Welles ci dica sono arrivati degli alieni e ci siamo. Voi pensate, oltre che all'elemento tucur militare di questi assalti e della difesa, trovarsi davanti a queste situazioni è anche un elemento psicologicamente che ti mette a disagio perché è come se tu combattessi degli alieni. Ripeto, noi social, televisione, siamo abituati a vedere di tutto. All'epoca chi sentiva un po' di comunicazioni delle primissime radio era un iperprivilegiato. Il fronte russo aveva un tasso di analfabetismo nelle sue file dell'85%. L'esercito francese no, l'esercito inglese no, perché fu un esercito più borghese e meno contadino rispetto a quello russo, però vi immaginate voi, magari qualche racconto arrivava nelle isbe russe e le taighe, poco o niente. Fu una delle situazioni che portarono alla rivoluzione del 1917, questi ragazzi mandati a morire in situazioni estreme, perché cosa? Per lo zar che era l'incarnazione di Dio sulla terra, lo era, ma non lo era diventato più nel 1917. Già nel 1905 c'erano stati dei sintomi perché c'erano stati la curanzata Potionkin, al di là di quello che le dice Paolo Villaggio, è un film meraviglioso che ci fa capire tante cose e vanno a chiedere allo zar aiuto e vanno a chiederlo con le immagini dello zar e le icone e sono i pope che vanno dallo zar a chiedere aiuto, ma come? Noi veniamo a chiedere aiuto e cosa risponde? Lo zar con la sua guardia scelta gli spara, commette un eccidio e perché questi ragazzi già stanchi, perché anche sul fronte orientale, altro fronte che noi italiani conosciamo poco, ma in Polonia, in Galizia, in Ucraina, nel Donbass, già nel 1917 si combatteva e si combatte perché lì ci sono le materie prime, perché là c'è il grano in tutti i sensi. Si combatte vicino a Baku, in Azerbaijan, perché là c'è il petrolio e voi immaginate anche il grande impero russo che drena tanti giovani, però a un certo punto non ce la fanno più, in Francia si protesta, in Russia per molti motivi si fa la rivoluzione. Eccoli qua i francesi, qui siamo ante 1916, vedete il cappello e loro se rimano belli fieri, hanno queste mascherine che sono quelle che naturalmente sono stati fornite anche a noi in tutto il mondo all'inizio del Covid e hanno questa sorta di occhialini che sono occhiali come si potrebbe vedere nelle fabbriche. Chi ha presente un grandissimo film poco posteriore di Shelley Cepri in tempi moderni vede che questi sono occhiali tipiche da officina e all'inizio si fa con le situazioni che si trova, vive Dio, adesso ci sono queste strutture, questi veri e propri scudi, perché questi sono scudi che proteggono dal lavoro e all'epoca proteggevano dalla guerra, quindi ecco come per dire che il momento civile, il momento militare molto spesso vanno insieme. Voi immaginate chi ha avuto, ora siete tutti giovani, ma un bisnonno che lavorava anche in ferrovia e si trovava in delle situazioni, averle avuti questi, sapete quante situazioni di tisi di quelli che respiravano la polvere? Pensate a Carrara, tutti gli scalpellini, non di tisi perché la polvere del marmo finiva nei polmoni, adesso ringraziando Dio con strumenti come questo si può lavorare in sicurezza, ma all'epoca non era così. La guerra, vi ho detto, è bella anche se fa male, in questo senso quantomeno ha avuto uno sviluppo, poi naturalmente in senso negativo vedremo anche quanto. Ecco questo mi piaceva perché questi sono gli islanders, questi sono gli scozzesi, naturalmente irlandesi, scozzesi, gallesi dell'Alster combatterono nell'impero e vedete marciano fieri di avere questo dispositivo. La maschera antigas diventa un'arma, come il moschetto questo, Lee Enfield, 1916. Questi poi si faranno vedere in maniera molto negativa nella rivolta di Pasqua di Dublino nel 1916, quando l'Irlanda sarà la prima rivolta, la rivolta di Pasqua contro il dominio dell'impero inglese, però vedete gli islanders in parata sfilano con la maschera antigas. Perché vi dico sono in parata? Ma di là che in fondo si vedono degli edifici, ma perché vedete il tartan, l'appartenenza al clan, è scoperto per non macchiare il tartan, gli scozzesi usavano un copriconnellino color cachi, perché non si dovevano sporcare quelli che erano i colori del clan. E vi dirò un'altra cosa, nella prima guerra mondiale gli italiani che combattono in prima fila nelle trincee hanno la loro bandiera, ma non c'è lo stemma Savaudo, perché in caso di cattura da parte del nemico della bandiera non si poteva farci prendere e sottrarre la bandiera con lo stemma dei Savoia, sarebbe stato disonore. E in prima fila, in prima linea, si combatteva con il tricolore come abbiamo adesso, senza lo stemma, la corona dei Savoia. Questo per dire che anche i segnali che si danno, e questo è un segnale, vi ho detto, di questi Eilander che partono da Edimburgo, da Glasgow, da Aberdeen, diretti sul fronte occidentale, fieri del loro tartan, ma fieri anche di avere la maschera anti-gas. Perché come i tedeschi useranno le gas truppen, questi pionieri, per agire, perché maneggiare un gas non è semplicissimo, è come quelli della seconda guerra mondiale, voi vedete Ibojima con il lanciafiamme, bisogna saperlo usare il lanciafiamme, perché se no ci si fa male, ma male, 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 a parte è pericoloso perché bastava un proiettile, esplodeva la bombola, non si trovava nemmeno resti. Questi sono dei soldati italiani che prima del 1916 inastano la baionetta, pronti ad un attacco, dopo un attacco di gas, e quindi hanno queste maschere ancora rudimentali, e per proteggerli dagli occhi, perché i gas urticanti prendono gli occhi, e uno veramente brucia e non sente assolutamente, e non vede assolutamente più niente, e poi altre situazioni, prende la gola il gas, basta prendere una misera fuga di gas, la prima cosa si sente l'odore e prende la gola, è un sintomo chiaro. Eccolo qua, qui c'è un attacco inglese, questi sono i famosi tummy, con il metto a scodella, vedete che escono dalle trincee, attaccano un saliente, un saliente sarebbe una posizione di rilievo da parte dell'esercito nemico, escono con la maschera antigas, escono con la prima della fila, o non ha la maschera antigas, oppure è stato usato un attacco con il gas urticante, che provoca pizzicone, nel vero senso della parola, uno non ce la fa, si toglie la maschera, però subsequentemente viene usato anche un attacco urticante, e vedete si regge la gola, perché l'artiglieria, c'era naturalmente i proiettili dell'artiglieria, però dopo contemporaneamente proprio per scompaginare le fila, si azionavano questi strumenti che usavano il gas, urticanti, come ho detto vescicanti, che scompaginavano il nemico, e uno perdeva completamente la trebisonda, diventava un bersaglio mobile, come un tiro al piccione, apro e chiudo parentesi. Chi è interessato a queste cose va a Verdun, dove ci sono dei monumenti fantastici, c'è una serie di forti a protezione di Verdun, uno si chiama Fort Duamont, dove fu fatto prigioniero Charles de Gaulle, che ha combattuto nella prima guerra mondiale, tra le tante cose i nomi che ritroveremo nella seconda, Rommel, De Gaulle, Brusilov, li troveremo poi anche nella seconda guerra mondiale, che tanti vogliono come continuazione della prima. Ebbene, fuori del Fort Duamont, c'è un monumento, una piastra, dedicata al piccione. I piccioni ci fanno un po' schifo, è un animale sporco, però è un animale utile per portare messaggi, perché la radio era all'inizio ma poco o niente. Il telefono c'era, nelle trincee si scavava ancora più a fondo per i fili, però naturalmente i primi incursori che entravano nelle trincee, accecavano le comunicazioni dei fili, quindi ecco l'importanza dei cani, dei piccioni, e lì c'è un monumento, la piastra, che ricorda il piccione, e questo piccione è stato insignito della legion d'onore, che è la massima onoreficenza francese. Ce l'ha anche il soffialone, ma insomma, ecco qua, per altri meriti, insomma, facciamo fare. Allora, vedete quello che succede dopo un attacco di gas, ai soldati, in questo caso sono inglesi, vedete che tutti, tutti si proteggono gli occhi, perché il gas non era un elemento destinato ad uccidere Tucur, era destinato a provocare danni, ma danni, danni anche sul sistema metabolico, sul sistema genetico, sul sistema visivo, e poi vi faccio vedere il vescicante che cosa provoca. E quindi vedete questi ragazzi che stanno andando verso un posto di pronto soccorso, anche lì la medicina, tanti si sono sacrificati, tanti medici, tanti infermieri che andavano sul fronte della prima guerra mondiale a prestare soccorso a questi ragazzi che ne uscivano veramente a pezzi. Eccolo qua, vi ho spiegato oralmente come funzionava, ebbene, come una bombola, vedete le bombole del gas oppure gli estintori, venivano aperte in favore di vento, partiva questa nube e dall'altra parte, soprattutto nelle prime situazioni, la prima volta fu usata nel 1915 a Ipre, e ecco perché il gas mostarda, gas mostarda dà l'odore di mostarda, di aglio, e ha questo gas, però si può chiamare anche Iprite, prende proprio il nome da Ipre, questa città martire, dove pensate tutte le sere alla porta di Menem, si chiama così perché più avanti c'era un villaggio, questi villaggi venivano tutti distrutti durante la prima guerra mondiale, tutte le sere alle 6 al tramonto tutt'oggi viene suonata la campana, il ricordo dei caduti tutti della prima guerra mondiale, chi fa un giro per il nord della Francia, il Belgio, sotto Gant, che è una città fra le altre cose molto bello, il Belgio è molto bello, poco conosciuto, ma Bruges, Gant, Bruxelles, Lovagno, Lovagno distrutta da tedeschi nella prima guerra mondiale, con una biblioteca fantastica, ebbene trova dei sacrari, dei cimiteri enormi, che fanno riflettere, fanno pensare, e ci attestano anche per noi amanti di storia militare, dove erano i fronti, perché i ragazzi venivano seppelliti lì, non è che li portassero, no no, si creava delle buche, chi veniva trovato, si parla di più di 300.000 dispersi, gente che magari pagava, gente che esplodeva all'esplosione di un ordigno, ecco vedete cosa l'uomo riesce a pensare, un premio Nobel, che poi in emesi storica verrà poi condannato per crimini di guerra nel 1920, dal Nobel a essere diventato un criminale di guerra. Queste sono le prime, vi ho fatto vedere come poi si sviluppa, perché l'uomo riesce sempre a sviluppare cose peggiori, anche migliori, parliamoci chiaro, e le prime venivano usate come delle vere e proprie granate, delle vere e proprie bombe a mano che esplodevano e disperdevano il gas, poi hanno scoperto che naturalmente aprendo una bombola, si faceva prima e si durava anche meno fatica. C'era l'ultima dove ci sono i guasti provocati da questi gas vescicanti. Si vede un soldato che è in delle condizioni drammatiche e un braccio che viene colpito dall'iprite. Ebbene, per chi è toscano sa che cosa sono le galle. è un qualcosa di orribile viso, avrebbe detto il mio amico Cicerone. Voi pensate a un ragazzo che già magari era stato colpito dall'artiglieria perché non si pensa mai ai mutilati di guerra, gente che perdeva la bocca, perdeva i bracci, le gambe, tornavano dei moncherini senza braccio senza gambe e naturalmente per la società erano morti. Eccolo qua, grazie Marco. Sono immagini un attimino forti. Vedete questo ragazzo colpito dall'iprite e vedete le vesciche che si creano sulla pelle delle persone colpiti da questi gas. Ma la storia non insegna niente perché noi italiani nel 1935-36 c'è l'impresa coloniale, ora non sto a tediarvi sui perché e come. E il regime, all'epoca regime fascista, siccome non riesce a venire a capo della fiera resistenza degli etiopi, pensa bene di bombardare con il gas queste tribù. Naturalmente queste tribù non hanno questi dispositivi. Avessero avuto questi dispositivi qualcosa in più e quei pochi che riuscivano a trovare non venivano messi nella dovuta maniera. Per tanti anni la nostra storiografia ha negato che gli italiani, brava gente, avessero usato i gas in Etiopia nel 1935-36, anche perché tanti non lo sapevano, perché venivano sganciati questi gas dagli aerei. Un'idea di, tra le altre cose, anche un grande generale della relazione come Due, ma anche Italo Balbo, lanciavano con i loro aerei questi gas, al di là delle linee molto spesso i soldati, ma anche i corrispondenti di guerra. Montanelli disse io non lo sapevo, chiedo scusa perché lui aveva sempre regato. Non lo sapevano che c'erano questi gas, perché venivano lanciati al di là delle linee. Poi non bene anche per l'Olimpione pubblica europea, dove Mussolini si voleva attestare come contropartita e interlocutore spendibile, ma come usi gas. A maggior ragione contro l'Etiopia, che noi pensiamo l'Etiopia. L'Etiopia era un paese che apparteneva alla società delle nazioni, l'ONU dell'epoca. Ed era una cosa che, dirlo non si fa, fa un po' ridere, ma si va contro qualsiasi convenzione. Ebbene, gli italiani nel 1935-1936 utilizzarono il gas contro le tribù etiopi che combattevano per difesa del loro territorio, perché questo facevano. In Somalia meno per le ragioni che vi ho detto, per il caldo, per le alture che erano diversa rispetto all'Etiopia, infatti nelle ambe che sono queste alture non furono usati gas. Poi c'è stato lo sviluppo ancora di più del gas, ma altre situazioni, quando c'è stato il bombardamento di Dresda, poi lì siamo andati, perché naturalmente l'uomo corre e naturalmente quando nel 1945 a Hiroshima e Nagasaki gli statunitensi lanciano la prima bomba atomica, a quel punto lì la maschera antigas non serve più. Fortunatamente, dallo sviluppo, perché gli italiani, siccome usavano il gas, però si dovevano difendere dal gas in Etiopia, c'è lo sviluppo delle maschere antigas Pirelli, che sono le Pirelli T33, T35, T37. Poi naturalmente tutte queste maschere antigas, fortunatamente, sono contento che ci sia questo sviluppo, vengono usati nella vita civile, nella vita lavorativa per mettere in sicurezza una volta i ragazzi e una volta i ragazzi che lavorano. Penso di avervi abbondantemente sfondato l'apparato lo genitale maschile esterno, però, ve l'ho detto, sono l'unico dispersivo che vi ho portato in tante situazioni. Paolo, grazie davvero, è super interessante. Grazie a voi e soprattutto grazie a creato le prime maschere da gas che hanno salvato e continuano a salvare le vite, quindi grazie a voi. Grazie, grazie davvero. Giusto per una nota, nelle chat un ospite diceva che durante il servizio militare dell'84 ha avuto modo di vedere la T35 Pirelli, quindi l'ha vista e poi un'altra ragazza diceva che il nonno era stato usato come mulo per portare l'artiglieria. Tu Marco sai tante cose, tu sai il primo battaglione NBC... Sono tante cose bene e alcune le sono molte bene. Ecco, questa immagino te la saprai molto bene. Il primo battaglione NBC che era qui contro la guerra batteriologica, sai dove era a distanza? No, ecco, questo non lo so. A Firenze e via capur. Grazie. 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 Grazie.